sono simone marchetti ed in oracle mi occupo di soluzioni per l'innovazione della supply chain mi rivolgo a funzioni aziendali quali acquisti innovazioni di prodotto produzione logistica e operations in genere mi piace dialogare con tutte quelle aziende che fanno della supply chain un asset strategico e attraverso questa vogliono costruire un differenziale competitivo sono cambiate le regole del gioco sono cambiati gli equilibri anzi possiamo dire che gli equilibri si sono completamente stravolti oggi le aziende hanno bisogno di rimodulare in fretta le loro catene del valore per essere pronte alla ripartenza e per gestire altri potenziali imprevisti una situazione così complessa è necessario disegnare delle strutture che siano capaci di reagire in maniera agile e rapida ai cambiamenti del mercato si pensa a strutture altamente collaborative che siano in grado di incorporare il valore aggiunto che arriva da tutte le funzioni interne all'azienda leggere quelli che sono i nuovi e reali bisogni dei propri clienti e soprattutto sfruttare tutto il valore che arriva dalla rete di fornitura oracle per fare tutto questo ha disegnato una soluzione applicativa in cloud completa e mette a disposizione la grande esperienza del suo team di supply chain nelle prossime settimane parte punta la ripresa un'iniziativa che abbiamo pensato per rendere disponibili quegli strumenti che serviranno alle aziende appunto per ripartire una sorta di cassetta degli attrezzi con contenuti organizzati per argomento e fruibili in maniera molto semplice attraverso un portale web abbiamo pensato questa iniziativa per essere a fianco di tutti i colori quali nei prossimi mesi saranno impegnati a costruire una nuova normalità e a far ripartire il nostro paese noi vogliamo esserci ci siamo siamo qui con la nostra competenza e le nostre capacità di fare innovazione